Il concerto di Giovanni Allevi in Basilica venerdì 11 giugno, poi il 13 giugno, festa di Sant'Antonio, con lo storico ritorno a Padova della reliquia dell'avambraccio del Santo, conservata a Venezia, nella Basilica della Madonna della Salute dal 1652. Un giugno antoniano segnato dalla grande fede verso il Santo dei Miracoli e dal ritorno dei pellegrini da tutta Italia, qualcuno anche dell'Europa, con un evento storico che Rete Venete, emittente del network Media Nord-Est, ha portato in tutte le vostre case. Straordinario e commovente l'amore della gente per Antonio. Lo stesso amore testimoniato dalle 6.000 persone che hanno sfidato il caldo e affollato le rive del fiume Brent a domenica 20 giugno, quando la reliquia, dopo una settimana di venerazione da parte dei fedeli sull'altare maggiore della Basilica, è tornata in laguna, riaccompagnata alla salute sulla dogaressa con un corteo acqua sul Canal Grande. Un santo che esce tra la sua gente per benedirla e accoglierla in questo momento di rinascita, Antonio, frate francescano di origine portoghese. In suo onore, come da tradizione ormai, i solisti veneti chiuderanno il giugno antoniano con un concerto che inizierà alle 21, diretti dal maestro Giuliano Carelle e con la partecipazione del mezzo soprano Marta Pluda. Il concerto segnerà anche la conclusione del 250esimo anniversario della morte di Giuseppe Tartini, primo violino e maestro dei concerti del santo, fino all'anno della sua morte avvenuta nel 1770.